Il Covid atterra il mercato del lavoro e nel bacino della Valle dell'Agno fa segnare un meno mille assunzioni nel 2020 rispetto all'anno precedente. E' stata una riduzione importante del 20% delle assunzioni, questo perché si è bloccato il tempo determinato e di conseguenza è rimasto attivo il tempo indeterminato e l'apprendistato. Mentre i saldi occupazionali per la prima volta nel 2020 abbiamo avuto meno 50, meno 50 tra entrate e uscite. Una crisi subita meno rispetto a territori con vocazione prevalentemente turistica, una situazione di difficoltà in cui gli sfiduciati che hanno perso il lavoro spesso evitano di cercarlo, al punto che stando ai dati raccolti da Veneto del Lavoro il numero dei disoccupati trattati dai centri per l'impiego del bacino dei comuni dell'Agno è diminuito di circa 300 unità nel 2020. Alla luce di questi numeri è stato inaugurato lo sportello lavoro a Cornedo Vicentino, nato dalla collaborazione delle sei amministrazioni della Valle dell'Agno con la Regione. E' la prima risposta che il territorio vicentino dà su questa importante tematica per quel che riguarda l'apertura di uno sportello lavoro, che nasce da un'iniziativa della Regione del Veneto in collaborazione con Anci e permette di mettere a conoscenza i tanti cittadini ma anche agli imprenditori delle potenzialità che offre la Regione del Veneto per il rinserimento lavorativo, per favorire l'occupazione e la formazione. Aperto dal 3 marzo sarà uno strumento a supporto sia delle aziende sia dei circa 70.000 residenti dei sei comuni con l'obiettivo di incrociare domande, offerte e permettere l'occupazione anche grazie alla ricollocazione. I cittadini che vorranno rivolgersi troveranno un operatore qualificato che accompagnerà il cittadino che chiede questo servizio dal curriculum oppure anche all'upgrade stesso del curriculum. Ricordiamo che la Regione Veneto mette in campo parecchie risorse per corsi di formazione gratuite, cioè per elevare il proprio curriculum ed essere più pronti ad affrontare il mercato del lavoro.